La festa del Basilico è una tradizione che dura da tantissimi anni, è una comunità che si ritrova attorno alla parrocchia, c'è stata sempre grande sensibilità da parte di tutti i residenti e non, dei parroci che si sono succeduti a Santa Veneranda che hanno sempre voluto bene questa festa. È una festa che crea identità, ormai è una consuetudine nella nostra città che tutte le parrocchie in qualche modo si caratterizzino con un evento non solo religioso ma anche di accoglienza e di comunità. La festa del Basilico sicuramente è una di queste, forse è la più antica dopo la festa del Porto, quindi è una tradizione che si rinnova dopo la pausa del Covid e questo ripeto grazie ai tanti volontari che collaborano, alle aziende che hanno sponsorizzato. Stand gastronomici, barzellettieri, intrattenimento per i più piccoli, serate danzanti, musica per i più giovani, musica per i meno giovani, tango argentino, pedalata notturna sotto le stelle di Santa Veneranda, ci sarà questo tour in mountain bike che partirà da Sagrato della Chiesa alle 18 e faranno 25 chilometri sotto le stelle. Purtroppo non ci saranno i fuochi d'artificio per motivi di sicurezza, la Commissione ha valutato che non era il contesto giusto, sarà la pace per chi ha i cani che magari quando ci sono i fuochi d'artificio in qualche modo si ribella rispetto a questa consuetudine che c'è non solo in tutte le città d'Italia.